Un cordiale saluto da Andrea Biagione di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. In A1 si consiglia prudenza a causa di un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Arezzo in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Sulla 1 panoramica si ricorda che a causa di lavori fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il tratto tra aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sul raccordo siano Firenze sempre a causa di lavori invece restringimenti di carreggiata tra San Casciano e Firenze in pruneta in entrambe le direzioni. Sulla regionale 429 variante di Certaldo si segnala che fino alle 16 di oggi rimarrà chiuso il tratto dal chilometro 12 al chilometro 17 650 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!